Prezzo di diesel e benzina stamani? Benzina 1,8 e 59, diesel 1,8 e 19. Anche il GPL è calato? Un pochino calato, a livello della benzina però un pochino è calato. E' quello che comunque in queste situazioni destabilizza un attimino, è perché o qualche compagnia ha un prezzo diverso, o chi più basso, o chi più alto, quindi non c'è una regolarità. Comunque in generale stamani abbiamo visto un afflusso maggiore. E' arrivato anche alla pompa di benzina il taglio delle accise contenuto nel cosiddetto decreto Ucraina-Bis. Se alcuni benzinai avevano applicato la riduzione già ieri pomeriggio è da stamani che i numeri si sono visti in calo un po' ovunque. Hanno aspettato un giorno per fare la riduzione del prezzo, quando c'è gli aumenti li fanno il giorno prima. Un taglio di 30,5 centesimi su benzina e diesel e 10,37 sul GPL. Una spesa inferiore di circa 15 euro a pieno, ha calcolato il Kodakons. C'è una bella differenza di prezzo? C'è una grossa differenza, sì, l'abbiamo visto su vari distributori. Il taglio dovrebbe garantire prezzi inferiori alla pompa per almeno un mese, la durata del decreto, ma è probabile una proroga. Fino al 22 aprile. Io penso che verrà rinnovato. In questi giorni di rincari repentini e a prova di record, il diesel è arrivato ai livelli della benzina, a volte superandola. Il motivo è dovuto al fatto che il processo di raffinazione del diesel è sì meno costoso di quello della benzina, ma il gasolio viene utilizzato praticamente per tutti i trasporti, tir, mezzi pubblici, generatori per le fabbriche. Le scorte sono quindi minori e con lo scoppio della guerra i mercati hanno reagito con maggiore incertezza, determinando il rialzo del prezzo in misura maggiore. Credo che prima o poi ritornerà alle stesse cose, alle cose originarie, sicuramente. Il decreto approvato prevede anche buoni benzina esentasse fino a 200 euro, che i datori di lavoro potranno utilizzare per i dipendenti.